E salve ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dei 7 peccati capitali e come vedete con la telecamera con la maschera Ecco qui raga la bustina di Lion che andrò a spacchettare In questo episodio più avanti e quindi si può proseguire con il gioco Tanto dismi se vi piace come ho fatto in questo modo i video da cellulare da ora in poi Sempre con la mia maschera e con gli spacchettamenti E qua che dovevo andare Non ho sbaglio Ok Ok Vai qua Si morto no eh Eh ti piacerebbe? Ok Sì, è vero. HAHA Io non credo proprio Eh scappa scappa che ti conviene Comunque daga anche voi comprate le carte di Lion Sono nel 50 Ok episodio completato Ok Metto anche automatico Ok 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 poi può essere può essere di fondo lui è un demone anche se lei non lo sa ancora ora lo puoi scappare e adesso lo matullo per bene colo un attimo che devo cambiare ah no aspetta di qua allora diana la tolgo ah si aspetta prima lo mette il personaggio qua rimuovi allora poi metto metto anche un e ovviamente si metto anche elisabeth no di qua ok squadra pronta preparati essere legnato come si deve come non si fosse un domani allora ragazzi io potrei anche mettere automatico la lotta eh ah si dai metto automatico non ho posto ok bene non vedo bene il suo livello cioè non si vede proprio comunque non dovrebbe essere difficile sconfiggerlo infatti è quasi già sistemato ok un attacco è andato ciao 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 addio ah raga ricordate che potete giocare anche voi a questo gioco colto di me infatti io aspetto che qualcuno di voi si allena per bene i personaggi o che scarica il gioco così possiamo farsi delle belle sfide e possiamo anche parlare fra di noi su discord che maledetto questo tipo di santa questo tipo di santa è un pochino sopra valutando illuso veramente è un illuso che è un pochino è un pochino che è da l'acqua penso qua crede di essere più forte si sbaglia di grosso si sbaglia di grosso bellissimo 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 ok quindi ok tanto al mio livello attuale lo batto facilmente poi è da solo eh a meno che non si chiama rinforzi prima da solo la sua fine al massimo ma non può battervi questo è certo ma è proprio da solo solo la vita un po' più allungata tutto qua ok 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 buongiorno eeeh andate anche voi a prendere le le file carnet di lion che in questo episodio non vedrete ancora che le carte Windy, ciao